Giuseppe Camarota è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Agropoli. La nomina è avvenuta durante l'assise della scorsa settimana. Camarota ha ottenuto i due terzi delle preferenze. Si sono astenuti dalla votazione lo stesso Camarota e il vicepresidente dell'assise Mario Pesca, che ha presieduto le ultime assemblee dopo le dimissioni di Massimo Laporta. Voto contrario del consigliere Gisella Botticchio. Volevo ringraziare prima di tutto il sindaco e tutta la maggioranza per aver dato fiducia alla mia persona, ma un ringraziamento particolare soprattutto va alle minoranze che hanno condiviso questa proposta. Non era certamente una cosa scontata, quindi grazie. Grazie di nuovo. Ritornando sul ruolo di presidente del Consiglio Comunale del Comune di Agropoli, che mi viene affidato, pur essendo questa una presidenza di brevissima durata vista la prossima tornata elettorale, sento tuttavia il dovere di una riflessione personale. Mi sento molto emozionato e gratificato e onorato di ricoprire questo ruolo di presidente del Consiglio della città di Agropoli, la città che appunto mi ha dato i Natali e che ci vivo da sempre. Mi si è consentito però un pensiero a chi mi ha preceduto in questo ruolo e a tutti i presidenti che in quest'Aula hanno contribuito alla crescita politica, sociale e democratica della nostra città, con passione e abnegazione, lasciando una grande eredità e da cui spero di riuscire a trarre insegnamento e spunti di riflessione per un migliore espletamento di questo incarico. Mi scuso sin da ora con tutti se ci saranno delle eventuali sbavature nella conduzione dei lavori del Consiglio, ma garantirò il massimo impegno nell'assumere il ruolo di presidente del Consiglio, con onestà intellettuale, trasparenza, terzietà, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto per tutti, sempre e soltanto per il bene comune della città che tutti insieme oggi amministriamo.